Musica Benvenuti ancora una volta in viaggio con noi di Agri Sapori. Iniziamo questa puntata primaverile parlando di Frutti in Fiore, la manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale e che ogni anno attira oltre 40.000 visitatori da tutto il Piemonte. Siamo a Lagnasco, in provincia di Cuneo, paese a forte vocazione frutticola. Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento irrinunciabile per chi vuole fare una full immersion nel mondo della frutta e scoprire le ricchezze alimentari e culturali del territorio. Come diceva un noto personaggio dello spettacolo, Lagnasco è una galassia che gira attorno alla frutta e quindi abbiamo voluto veramente, come sempre, come per tutte le altre edizioni, anche quest'anno coinvolgere veramente tutti, le famiglie e i consumatori. Poi ci sarà il mercatino, ci sarà Frutti in Tavola, Frutti in Piazza, saranno dei momenti con show cooking e presentazione di ricette, anche in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Barge. Avremo il solito, ormai tradizionale spettacolo dei fuochi artificiali e poi anche altre manifestazioni, tipo la Corsa Pumaling, che è una corsa podistica non competitiva che si svolgerà venerdì dopo l'inaugurazione e la camminata tra i fruttetti in fiori che si svolgerà invece alla domenica mattina. Avremo come novità quest'anno la via dei fiori in via Tapparelli. Abbiamo voluto concentrare un po' tutti i produttori di fiori e tutti i vivaisti e quindi in questo momento avremo la possibilità di vedere tutta via Tapparelli fiorita. Nel salone di via Tapparelli una mostra che va nel solco di quello che abbiamo già tracciato l'anno scorso, cioè la storia della nostra frutticoltura, la storia del nostro territorio e quindi anche lì una mostra fotografica, ma non solo fotografica, che sarà interessantissima da vedere. Questo areale in proporzione al territorio comunale è il più intensamente dedito alla frutticoltura della regione Piemonte e in generale dell'Italia. Qui si producono pesche, mele, pere, kiwi, frutta destinata all'esportazione e al consumo nazionale. Importante è produrre frutti di alta qualità, ma rispettando l'ambiente e garantendo al consumatore un prodotto buono, ma anche salubre. Sì, sicuramente sì. Tutta la consulenza tecnica rappresentata dal coordinamento è comunque protesa a cercare di migliorare quelle che sono le condizioni soprattutto ambientali, quindi cercare di fare innovazione nella coltivazione, nel rispetto massimo dell'ambiente e nel rispetto sempre maggiore dell'ambiente. Proprio su questi due temi vertono le due iniziative importanti che si faranno in Via Praetta. Il sabato mattina alle 10 ci sarà il convegno sulla nutrizione delle piante da frutto, quindi esperti del settore parleranno di come salvaguardare la fertilità del terreno pur facendo coltivazione intensiva e quindi dovendo nutrire le piante. Come già gli altri anni, sempre nel piazzale dell'Aspol, nel piazzale di Via Praetta, ci sarà invece per tutta la durata della manifestazione il salone tecnologico che abbiamo chiamato STAO. Qua ci saranno tutte le tecnologie che si applicano in frutticoltura lungo tutta la filiera. Dall'inizio dell'impianto fino alla conservazione in magazzino, tutte le macchine e tecnologie più innovative che vengono utilizzate saranno rappresentate dalle ditte che le costruiscono. Dall'esposizione delle attrezzature per la lavorazione della frutta presenti presso lo STAO alla visita degli stabilimenti di lavorazione, siti presso il comune di Lagnasco. Un'occasione per il pubblico di Frutti in Fiore di apprendere quanta tecnologia esiste per far arrivare la frutta sulle nostre tavole. Alla domenica la Lagnasco Frutta apre le porte dello stabilimento proprio per far sì che i visitatori Frutti in Fiore si rendano conto di come è impegnativo il lavoro della frutta, della produzione, ma più che altro della lavorazione del prodotto, visitando sia i magazzini che i macchinari per la lavorazione e la conservazione dei prodotti. Domenico Sacchetto è il presidente di Assorto Frutta, che è l'associazione dei consorsi per la valorizzazione e tutela delle produzioni ortofrutticole a marchio collettivo della provincia di Cuneo e del Piemonte. Attraverso Assorto Frutta, le quattro organizzazioni dei produttori ortofrutticoli piemontesi associate intendono promuovere l'ampia gamma delle produzioni orticole e frutticole tipiche e di qualità del nostro territorio. Nel loro insieme Piemonte Asprofrutt, Lagnasco Group, Ortofruiti Taglia e Albifrutta producono oltre il 30% della produzione ortofrutticola regionale. Domenico, possiamo fare un bilancio di come sta andando questo mercato? Sì, possiamo dire che l'annata scorsa i kiwi è andato bene, anche le mele estive, un po' meno le pesche e le susine, però dobbiamo ricordarci che i mercati sono sempre più difficili da accontentare, sia quelli europei che quelli oltre l'oceano, dove noi esportiamo normalmente la nostra frutta. Abbiamo bisogno che il governo e le autorità ci dia una mano per far sì che gli accordi bilaterali tra i vari paesi siano effettivamente funzionali e ci diano la possibilità di esportare sempre più, specialmente la frutta invernale, le mele e il kiwi, in tutte le parti del mondo, perché ormai arriviamo in tutto il mondo. E questo apprezzamento da parte dei consumatori mondiali è sicuramente la dimostrazione di come le realtà locali siano state capaci di evolversi, trasformando le antiche tradizioni nella moderna frutticoltura, ma senza abbandonare i valori tipici del territorio. Questo mix di tradizione e innovazione è rappresentato perfettamente da frutti in fiore, che è giunto a quale edizione? Quest'anno quindicesima edizione, un numero importante, un numero difficile, ma con l'impegno e con lo sforzo di tanti panner e tanti volontari siamo riusciti ad arrivare a questo numero. Speriamo che non sia l'ultimo, anche se non nascondiamo che ogni anno è più difficile. Ricordiamo ancora proprio i due avvenimenti, ormai così chiamiamoli appuntamenti collaterali, i fuochi d'artificio al sabato sera, la camminata la domenica mattina, vi aspettiamo veramente numerosi, il tempo sarà dalla nostra, ne abbiamo la certezza, abbiamo sentito chi di dovere e quindi un arrivederci a tutti e ci vediamo il 7, l'8 e il 9 aprile all'Agnasco. Lasciamo l'Agnasco ma restiamo in Piemonte, ci spostiamo ad Asti dove si è svolto un importante convegno dedicato alla cultura del nocciolo e più nello specifico sulla cimice asiatica, un suo parassita, sui nuovi impianti e sulle tecniche di gestione sostenibile. Con noi Silvio Pellegrino, coorganizzatore di questo evento, che ha visto presso l'aula magna dell'Istituto Agrario Penna, una folta partecipazione. Sì, abbiamo proposto questo convegno per fare il punto un po' su dove va il nocciolo a livello di prospettive, soprattutto a livello internazionale e vogliamo fare il punto anche su come si sta diffondendo la cultura e quali sono le sue minacce. Ne abbiamo una in particolare che questa cimice c'è asiatica, arriva dall'estremo oriente e da un paio d'anni che l'abbiamo scoperta qui sul territorio e l'anno scorso ci ha creato dei danni importanti in alcune aree per ora delimitate della regione. La fondazione Agrion che lei dirige ha lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese. Il cuore della sua attività è la creazione di percorsi di innovazione volti a migliorare la qualità del prodotto agricolo e agroalimentare piemontese. Inoltre la fondazione supporta questa crescita con la sperimentazione sul territorio e il coordinamento dei tecnici di base. Per quanto riguarda la cimice asiatica che cosa state sperimentando per debellarla? Cosa vogliamo fare quest'anno? Intanto un monitoraggio attento di come si diffonde questo insetto e in quel modo poter intervenire in maniera precisa e ritengo che come siamo riusciti a fare sulla frutta fresca anche sul nocciolo potremmo controllare ai minimi termini i danni sul nocciolo. Due, vogliamo fare di più perché ci rendiamo conto che la chimica è un'arma spuntata nei confronti di questo insetto. Quindi lavoreremo con delle tecnologie più avanzate e abbiamo una collaborazione a livello regionale con il settore fitosanitario e con l'università. Mettiamo appunto una tecnica che si chiama CONT. Consiste in feromone, feromone sono gli aggregatori di questi insetti, li attira e mettiamo tutto intorno a una rete che sia in grado di catturarli ed ucciderli. Speriamo che sia una tecnica efficace, in ogni caso è quella che a livello internazionale sta destando interesse. Guardiamo anche oltre e in una collaborazione con l'Università di Torino e con il CREA, l'Istituto Nazionale del Ministero Agricoltura, andiamo a studiare meglio quelli che sono gli insetti utili per contrastare quest'altro insetto, nel senso che sono delle piccole vespette, ce ne sono di diversi tipi, le studieremo un po' tutte, che vanno a deporre le uova nelle uova della cimice. Quello che mi piace dire oggi è che c'è questa piena collaborazione tra Agrion, che ha un centro di ricerca, ma che funziona anche da aggregatore di Università Servizio Officio Sanitario, Ministero Agricoltura per affrontare un problema che veramente è grave. Con la globalizzazione noi abbiamo importato a ondate tutti questi problemi, non riguardano solo noi Piemonte, riguardano tutta Italia o tutta Europa, però in questo caso siamo dei primi ad affrontarli e dobbiamo fare in modo che come sul cinipede del castagno siamo stati i primi a subirlo e siamo stati i primi in questo momento a uscire completamente fuori, così anche sul nocciolo possiamo tra qualche anno tornare a sorridere, a produrre le nostre nocciole di qualità, di qualità anche dal punto di vista della sicurezza alimentare, zero residui, molto più agricoltura biologica. Avremo anche una collega che presenta nel corso di questo convegno la gestione del suolo a disarbo zero per poter arrivare veramente a un noccioletto che è un'espressione del paesaggio e qualcosa che valorizza le nostre colline, i nostri territori. Al convegno sono intervenuti i rappresentanti del gruppo di lavoro del settore fitosanitario regionale e il disafa dell'Università di Torino, Facoltà di Scienze Agrarie. Stiamo lavorando a 360 gradi per cui in particolare oggi ho parlato dei limitatori naturali che possono adattarsi a questa cimice o quelli esotici, però stiamo lavorando anche su altre strategie di difesa, sui movimenti, il comportamento di questa cimice, quando arriva sulle culture e come riuscire a intercettarla prima che possa colonizzare le culture. Quindi abbiamo tanti campi in esperimentazione. Analogo problema lo avete avuto qualche anno fa con un parassita del castagno? Infatti, sarebbe bene riuscire a fare la stessa cosa. Il cinipide del castagno è stato risolto con questo parassitoide che è stato introdotto dalla Cina proprio prima che poi venisse proibito l'ingresso di altri organismi esotici. Quindi noi in questo momento vorremmo risolvere agliomorfalis con le stesse strategie, quindi strategie pulite che non vanno a interferire con le strategie di difesa integrate ormai adottate e quindi sarebbe riuscire a individuare un parassitoide o un limitatore indigeno, in questo caso che possa adattarsi agliomorfalis per poterlo incrementare e distribuire per ricostituire un equilibrio che non c'è nel nostro paese. Sempre di più sono nell'occhio del ciclone i rischi legati alla salute umana e all'inquinamento ambientale. Quali sono le possibili soluzioni a impatto zero per quanto riguarda la cultura del nocciolo? Agrion si sta impegnando nel settore frutticolo e in particolar modo qui siamo nel settore corilicolo per una gestione e biologica e integrata del frutteto. In particolare per il focus nostro è sulla gestione meccanica e con interventi fisici di piro di serbo del sottofila del noccioletto, quindi del cotico erboso e dei germogli basali, polloni che sappiamo la nostra cultivar di riferimento, tonda, gentile e trilobata, produce in grande quantità. Anche per quanto riguarda la nocciola biologica c'è un interesse da parte dei consumatori? È in forte crescita perché c'è un interesse, una sensibilità maggiore sia da parte del consumatore e anche dello stesso mercato che chiede sempre più un prodotto non solo di qualità ma anche prodotto secondo il rispetto dell'ambiente in maniera ecosostenibile. Il Ministero dell'Agricoltura con un proprio decreto ha autorizzato l'iscrizione nel registro varietale nazionale della tonda gentile delle Langhe. La medesima iscrizione era però già stata fatta sul registro europeo da paesi quali l'Olanda e la Romania. Sarà dunque indispensabile intraprendere iniziative necessarie nei confronti degli stati UE, Olanda e Romania affinché si ottenga la cancellazione dai rispettivi registri delle varietà vegetali dell'addizione Langhe dalla cultiva registrata sotto il nome tonda gentile delle Langhe. Esatto? Vogliamo però spiegare meglio questa diatriba? Io credo che qui il tema grosso sia come dire molto semplice da spiegare un po' più complicato da ottenere come soluzione. Il tema è che se, come era in passato, il nome della varietà è tonda gentile delle Langhe, tutti coloro in qualunque parte del mondo che impianteranno questa varietà avranno titolo a chiamarla tonda gentile delle Langhe. Quindi si poneva al tema, e il percorso che si sta facendo va in questa direzione, di togliere il diritto di usare il nome delle Langhe a coloro che non sono nelle Langhe. Per fare questo bisogna che quel toponimo, quel riferimento territoriale non sia nel nome della varietà. Ora, su questo il Ministero sta lavorando, probabilmente in alcuni passaggi può aver fatto, come dire, qualche passaggio un po' scivoloso, ma credo che il tema sia assolutamente questo, distinguere il nome della varietà dal nome del territorio, in modo che solo il nostro territorio possa poter dichiarare che il nostro è il prodotto delle Langhe. Questa è la grande partita su cui si gioca un pezzo importante di futuro di questo nostro prodotto, che è un prodotto assolutamente straordinario e che non per nulla in tutto il mondo cercano di poter utilizzare il nostro nome per poterlo imitare. Dunque la tipicità del prodotto è dovuta sia alla Cultivar, ma anche al terroir di produzione? Assolutamente sì, anche perché un sacco di esperienze che sono state fatte hanno dimostrato che questa nostra varietà storica dei nostri territori produce questo prodotto eccezionale qui da noi, ma ringraziando il cielo non lo produce in altre aree del mondo. Sono state fatte esperienze sia in Sud America che in Est Europa, dove sono state impiantate piantini delle nostre varietà che non hanno prodotto lo stesso risultato organolettico che producono qui da noi. Questa è una nostra fortuna, ma che va tutelata in tutti i modi. Ritorna ora con noi un caro amico di Agrisapori che per più di 12 anni ha condiviso i viaggi e i sapori della nostra bella Italia, Fabrizio Salce, oggi in veste di inviato speciale, anzi di invitato speciale. Fabrizio è con noi per raccontarci i suoi viaggi nelle terre, nei sapori, nei vini della penisola. Provate ad invitarlo anche voi. Amici cari, terra e sapori e vini, prosegue il nostro viaggio. Abbiamo raggiunto una quota ancora più elevata, siamo saliti a 1890 metri. Non dovrei dirle, so già che poi l'allergia mi riprenderà, ma questo è un posto meraviglioso, non mi posso esimermi da dirlo. Allora, Mirko Berto al mio fianco, intanto andiamo a raccontarle geograficamente, Mirko, dove siamo arrivati, perché ho detto siamo saliti di qualche metri. Sì, siamo in Alta Val di Susa, siamo a Sausadunx a 1893, per la precisione. Bravissimo, 1893 metri, siamo nelle montagne della Via Lattea. Certo, posto meraviglioso. Posto meraviglioso, lo lascio dire a te questo. Sì, no, Pietro poi tra l'allergia mi diceva, non dovevi dirlo, non dovevi dirlo, non è vero. Anche perché loro sono veramente molto ospitali. Allora, abbiamo individuato il luogo geograficamente parlando, ma questo è un antico rifugio. Sì, 1931 per la precisione, sì, la prima pietra. Poi ha subito diversi cambiamenti negli anni da rifugio per le famiglie degli Alpini dopo la guerra e si è trasformato poi in un rifugio. Poi quando le normative sono cambiate, insomma la strada raggiungeva il rifugio, quindi non era più definibile come rifugio, è diventato albergo e da lì abbiamo comprato io e mia madre e negli anni, pian piano, siamo arrivati a quello che è oggi. Ecco, a quello che è oggi. Da diversi anni, tu e la tua famiglia chiaramente ci state lavorando, ma non sono due giorni, voglio dire... No, sono 22 anni ormai, più della metà della mia vita ormai, ricordo ancora la città come se fosse ieri, ma in realtà poi la maggior parte della mia vita ormai è passata a fare queste montagne. Sto parlando della località Ciao Paese, questo lo devo dire. Ecco, oggi noi diamo ricezione turistica, si mangia, si beve, si fa accoglienza, ma praticamente tutto l'anno. Sì, tranne qualche piccolo periodo dell'anno dove diventa difficile per il cliente raggiungerci viste le condizioni della strada, perché d'estate, d'inverno, d'inverno ci preoccupiamo noi del cliente con le motoslitte nostre, d'estate il cliente può arrivare tranquillamente a piedi, con bici, in moto, in macchina, con qualunque mezzo, ci sono quei mesi in cui il fango, la pioggia esagerà, creano un po' di problema, quindi si possono identificare con il mese di ottobre, ecco lì, fine ottobre, prima di novembre, lì non è che non siamo aperti, noi ci siamo. Siamo nel cuore invece della stagione estiva e la regia ci regala delle immagini bellissime realizzate dall'alto, perciò nel cuore anche delle giornate, del vivo della ricezione, perché vedo bambini che giocano, vedo famiglie che prendono il sole, che si divertono. La montagna continua col suo corso di portare su famiglie che passano i sabati e domenica nei nostri prati. Lo devo dire Mirko, è un ragazzo molto gentile, molto umile, oggi hanno mandato via qualche centinaia di persone, ecco, cioè voglio dire, ne arrivano veramente tante, anche perché si sta bene, tu sei molto attento sia alla cucina, poi andrò a curiosare, a parlare con la voce, ma anche per esempio al vini, perché io ho fatto di tutto insomma. Sì, è una carta che ho ricercato negli anni e devo dire che non c'è stata una ricerca diretta, è dovuta al tempo questa carta. Alla fine dico sempre ai miei ospiti che bevono quello che io ho bevuto e che mi è piaciuto, non vado tendenzialmente a cercare qualcosa che non conosco, quindi prendo, provo, assaggio, mi piace, lo provo con gli amici fuori stagione, in quel periodo dove magari potrei invitarti ad assaggiare una bagna cauda, un bollito misto. Quanto amo questo ragazzo, mi piace. Ecco, poi per i periodi così e assaggiamo i vini e quindi quei vini che rimangono, insomma, che mi piacciono e rimangono in carta che il produttore. Negli ultimi anni Sauce Eduls si sta facendo un nome per ciò che concerne le produzioni tipiche locali valorizzate e incentivate dal comune anche tramite l'istituzione del marchio DECO, denominazione comunale di origine, che comporta l'emissione di disciplinari di produzione per mantenere la purezza e garantire la qualità dei prodotti. Questa vasta scelta in cucina ha valorizzato il territorio anche per gli amanti del buon mangiare e a proposito di cucina Fabrizio ci aveva anticipato che sarebbe proprio andato in cucina per conoscere alcuni di questi prodotti. Detto fatto amici cari, ho detto che saremmo andati in cucina a curiosare, magari se maniava pure qualcosa e ho raggiunto Chris proprio nella sua cucina che è lo chef qui del Ciao Paese. Io ho un piatto straordinario a vederlo molto molto bello, poi lo assaggerò. Chris, che cosa hai preparato qua? Allora, ho preparato una costina o lombattina di cervo con il suo filetto, un radicchio trevigiano cotto in forno con olio extravergine in oliva, la polenta grigliata come base, un lime per il tocco agro, una cipolla di tropea marinata al miele e del sale grosso rosa dell'Himalaya. Aceto balsanico e decorativo. No, mi fa sorridere perché pensate a quanti territori abbiamo toccato con un piatto, perché hai parlato di tropea, perciò della bella calavera del nostro sud Italia, hai parlato dell'Himalaya e andiamo dall'altra parte del mondo, il radicchio penso chiaramente al trevigiano, comunque al veronese e poi l'aceto balsanico con il quale abbracciamo affettuosamente gli amici di Modra. Cucinare a 1893 metri, che cosa vuol dire? Da tanti anni ormai sono abituato, cerco di esprimere il meglio possibile con le carni del posto. Perciò una selvaggina anche di qualità, assolutamente. Assolutamente, soprattutto il filetto è tra i migliori che ci sono. Però viene spontanea la domanda, qui siamo in un territorio di montagna dove cambia dalle estate e all'inverno, perciò anche la cucina cambia, devi essere molto bravo a intuire i cambiamenti. No, noi cambiamo sempre il menù stagionale, facciamo un menù invernale e un menù estivo. Grazie a Fabrizio l'invitato speciale e grazie a Pietro Marcellino per le belle riprese che ci ha inviato. Scendiamo a valle, restiamo però sempre in provincia di Torino, andiamo a Pralormo dove si è dato vita a Messer Tulipano, la grande manifestazione che nel parco del castello di Pralormo annuncia la primavera con una straordinaria fioritura di oltre 90.000 bulbi di tulipani e narcisi. Consolata Beraudo di Pralormo ne è l'organizzatrice. Contessa, vogliamo raccontare questa spettacolare manifestazione floreale? Messer Tulipano, 18esima edizione, inizia il 1 aprile e finisce il 1 maggio. Un mese di continue novità di ogni tipo, per l'editatore che verrà potrà trovare molti più tulipani, normalmente ne piantiamo 80.000, quest'anno sono 90.000, abbiamo aggiunto una zona, prendo un cancello verso l'esterno, tutti i piantamenti di tulipani rosa. La particolarità è che questi tulipani sono profumati, il tulipano è rarissimo che sia profumato e che hanno più di 100 anni, perché è stato appunto il dono di un coltivatore che alla quarta generazione coltivava questi tulipani in provincia di Asti. Infine, una collezione segreta di bonsai che nessuno ha mai visto, dei bonsai con la tecnica cinese e non giapponese, quindi molto più grandi, alti quasi 1,50 m, che desteranno sicuramente la meraviglia degli appassionati. Grazie a tutti coloro che anche questa settimana sono stati i protagonisti di Agri Sapori e nella speranza di aver soddisfatto o almeno virtualmente il vostro palato, vi diamo appuntamento per altri viaggi e altri sapori alla prossima settimana su questa emittente e quando volete su www.agrisapori.it